L'unico che difendeva gli utenti telefonici, noi facevamo la battaglia contro il 144 e addirittura la SIP assoldarono in un convegno Ralph Naders per delegittimarci, Beppe fu denunciata alla procura di Torino, queste storie con l'Inse gli rentero 50 milioni di vecchie lire di risarcimento, ecco io non voglio semplicemente...